Sielo dato Gesù Cristo carissimi amici, oggi 8 dicembre 2022 celebriamo all'interno della Chiesa Cattolica l'Immacolata Concezione che è Maria. La liturgia della Parola all'interno della Divina Eucaristia ci presenta e ci propone il Vangelo di Luca, capitolo 1 dal versetto 26 al 38 e riguarda l'annunciazione, lei che riceve l'annuncio da parte dell'Arcangelo Gabriele della Divina Maternità. La prima domanda che ci facciamo è come mai questo Vangelo? A parte il fatto che non esiste una pagina del Vangelo relativa all'Immacolata Concezione di Maria, che vuol dire l'essere stata concepita senza peccato originale, mancando questo si utilizza questo brano che però non è del tutto da considerare in modo marginale. Questo brano contiene una verità straordinaria, qual è? E la risposta, o meglio il saluto, che l'Arcangelo Gabriele fa a Maria dopo averla visitata, dopo essere entrato nella sua stanza, e le dice rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Noi sappiamo dalla lettura di quella pagina che Maria rimase molto turbata e uno si domanda perché? Perché ha paura dell'angelo che le è apparso il trascendente che si fa visibile qui in terra? No, Maria è turbata per le parole che l'Arcangelo Gabriele pronuncia, piena di grazia. Maria è consapevole che nessuna creatura poteva essere teologicamente definita così, piena di grazia, e lei è turbata perché quel saluto le è rivolto e lei la piena di grazia. Dunque questo Vangelo, utilizzato per l'8 di dicembre, definisce un aspetto, chiamiamolo ontologico, di Maria. Ella è immacolata concezione, ovvero è preservata da qualsiasi contaminazione di peccato fin dal suo concepimento umano da parte dei suoi genitori. Per questo l'angelo la definisce piena di grazia. Effetto di questo privilegio fu la sua assunzione al cielo poi e ancora prima, ricordiamolo, la sua divina maternità. Madre di Dio, concilio di Efeso, che ricorderemo fra un momento. Fu Papa Pio IX, Giovanni Battista Mastai Ferretti, che il giorno 8 dicembre del 1854 proclamò il dogma con la bolla ineffabilis Deus, dopo però aver consultato attraverso lettera tutto l'Episcopato mondiale relativamente a questo problema. Possiamo definirla immacolata concezione teologicamente parlando, la risposta dei Vescovi fu nella stragrande parte positiva. Si proseguiva a metà dell'Ottocento e si proseguiva la riflessione teologica sulla figura stessa di Maria. Chi è Maria? Era già stata definita ad Efeso madre di Dio ed era il giorno 22 giugno del 431. Ancora oggi ad Efeso il perimetro della Chiesa, dove questo dogma fu votato a stragrande maggioranza, è ancora visibile. Si può andare lì ad Efeso a ricordare questa definizione straordinaria. Concluderà, e io dico provvisoriamente, lo studio teologico su Maria Papa Pio XII, Eugenio Pacelli, il quale definì l'assunzione di Maria in cielo, in anima e corpo. E fu il giorno primo novembre del 1950, proprio nella solennità di tutti i Santi, la Santa tra le sante. E questo fu definito con la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus, firmata proprio dal Pontefice. Ma uno dirà, è il Concilio Vaticano II. Che cosa dice di Maria riguardo la sua identità, chiamiamola e definiamola ontologica? Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione conciliare Lumen Gentium, del 4 dicembre 1963, proprio al numero 55, ribadisce quanto abbiamo fin qui ricordato. Il Concilio conferma duemila anni di storia, li conferma e li pone all'attenzione di tutti i credenti. Ci poniamo adesso una domanda. Quanto detto su Maria? Appartiene solo a Maria? Noi ne siamo lontani? Oppure in qualche maniera partecipiamo di quella identità di Maria? Certo, nessuno di noi è Immacolata Concezione. Nessuna tra le donne di questo mondo è Madre di Dio. Ma possiamo in qualche maniera partecipare di quella Immacolata Concezione anche se feriti dal peccato originale? Maria è la creatura perfetta che è in piena comunione con Dio. Ma è anche quanto noi, beneficiari della redenzione di Cristo, potremmo essere nel giudizio finale. Perduto quel peccato originale, l'innocenza principale della creazione, noi ci troviamo alla fine dei tempi, nel giudizio universale, alla ricomposizione di quanto il Dio creatore aveva pensato per l'umanità. E riconquistato questo dal sangue di Cristo, ecco, riproposto un uomo nuovo, quello che sarà l'uomo dell'eternità. Però ricordiamoci, amici cari, che Maria è l'avvocata nostra, quella avvocata nostra che noi ricordiamo sempre nel Salve Regina. Ma è anche una madre amorevole. E per chi ha l'esperienza meravigliosa di Lourdes sa che Maria ha voluto passare attraverso Bernadette Subirous in quel 1858, quattro anni dopo la proclamazione del dogma, per dire, Bernadette, il Papa aveva ragione, io sono l'Immacolata Concezione. Se l'ho dato Gesù Cristo.